Con l'aiuto anche di Erika Di Maolo che abbiamo sentito prima, Ellen Braga, una vittoria importante, poi è arrivato anche il premio come miglior giocatrice, ma credo che l'importante sia aver vinto questa partita, la cosa più importante. Non era facile. No, no, è molto importante. Non è facile. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, siamo in la ultima posizione della partita, ma noi conosciamo che non sarebbe facile questa partita. Ha detto che non è stata una partita facile, che anche se loro erano ultimi in classifica, sapevamo che comunque non c'entrava nulla la classifica, solo un numero, e dovevamo comunque giocare il nostro gioco. È una grande partita da parte tua, hai preso il premio come miglior giocatrice, direi che nella seconda parte del primo set hai portato per mano la tua squadra, ma credo che l'importante è aver vinto la partita di squadra, no? Poi fa piacere vincere il premio, è una cosa in più però. Sì, sì, sono molto felice perché ho alcuni problemi nella mia vita, quindi sono felice di aiutare la mia squadra, anche con questi problemi, quindi è come una victoria personal per me. È molto contenta perché ha anche dei problemi alle ginocchia, quindi non è nella sua forma fisica perfetta, ed è contenta che comunque è riuscita a dare il contributo alla squadra e che abbiamo vinto questa partita da squadra. È una grande prova di squadra, Ellen. Dove può arrivare questo casal maggiore? Con questa vittoria c'è un ottavo posto importante che se conservato fino alla fine di una andata può voler dire giocare la Coppa Italia. Che obiettivi vi date per queste prossime gare? Sì, sì, questo obiettivo per noi è molto importante, stiamo cercando di farlo da questo obiettivo e stiamo aspettando per questi obiettivi, ci stiamo lavorando e adesso ogni giorno dovremo allenarci sempre bene per raggiungere questi obiettivi. Ok, grazie Ellen e grazie Erika e complimenti. Grazie.